Se qualcuno non ha il tempo di svolgere il ruolo che ricopre, non credo che vi sia alcuna assurdità nel dire che probabilmente è meglio che lo faccia chi ha tempo. Non ci vedo un giudizio nel merito delle capacità delle persone o di eventuali loro comportamenti tacciabili di giudizio negativo. No, è semplicemente una questione che dovrebbe appartenere alla logica e alla normalità. Purtroppo molte volte la normalità in questo comune non riesce a trovare radici perché politicizzare una situazione come quella, avere gruppi politici che addirittura intervengono, annunciando un voto di gruppo negativo nei confronti di quel tipo di proposta, quando, ripeto, non è un atto di indirizzo programmatico, era una questione di applicazione o meno di regole previste all'interno del nostro statuto. Quindi non aveva una connotazione di natura politica. È ovvio e mi sembra naturale che il sindaco della città di fronte a un comportamento ancora una volta veramente singolare e al di là di qualsiasi logica da parte d'Italia dei Valori abbia presentato le dimissioni per far capire uno che non si può giocare col tempo degli altri, due non ci si può permettere che ogni volta di trovarsi di fronte a spettacoli come quelli avvenuti in Consiglio Comunale bisogna capire se vi sono le condizioni per continuare a lavorare per il bene della città o altrimenti se queste condizioni non è possibile più averle. Certa è una cosa che io non credo proprio che questa volta il sindaco di Pomezia sia disponibile a soluzioni di basso profilo. O c'è la serietà per continuare un lavoro e in questo caso io credo che non ci sia nessun problema a dire che è compito anche di chi pensa al bene della città capire se ci sono le condizioni per coinvolgere in aggiunta altre forze che possano condividere un percorso nell'azione di governo della città per dare soluzioni ai problemi che sono sul terreno. Altrimenti, torneremo alle urne, sicuramente non siamo disponibili a vivacchiare occupando una sedia, non ci interessa.